musica 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 whatsapp whatsapp ok abbiamo preso il bart mi scadevo i muscoli io le falangi musica johnny sto venendo a prendere il tuo culo flaccidosa eh pulino musica per favore non lo devo beccare 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 oh william vieni vieni oh c***o ah come in c***o no fate schifo fate no dietro i prosciutti o dietro i miei prosciutti dai questo qua giocia alla salute mentale di un tossico dipendente no ancora no 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 io qui non posso più salire perchè no oh 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 ok oh 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 o forse non dai impossibile anche io candelabro e il problema adesso è che io non mi ricordo e la cosa è grave perché non mi ricordo più dove cazzo dovrei andare a mettere l'acido qua non è e corri perché da lì è venuto il bosso del quartiere del narcotraffilo geniusly si dovevamo dire che c'ho dietro si si Quindi hai usato i sessi dei sessi di trasportare? Sì, sono stati costruito per divirtare l'acqua di un'esprimazione di un'esprimazione e sono abbastanza spaziosi. Ci sembrava solo naturalmente incorporare l'acqua in grado della struttura. Ma non ci siamo ancora oggi. Il flore è sessuale, e quando l'esprimazione si tratta, i tonnelli produrano un'esprimazione di un'esprimazione di un'esprimazione di un'esprimazione. C'è un'antidote, ovviamente, ma non ci saranno sbagliare oggi. Vieni, in questo modo invece. Siamo quasi all'esprimazione. Ok. Quindi... E' la blocca che sembrava già essere... Olio. Allora... Scolo dell'aria. Attento che te lo diamo, vai! Perché poi non ci succede la linterna? Se non va? Lubrica! sono l'alba giù con tutta la tua forza giù con tutta la tua forza va bene allora nel bilan non ci portiamo scelto l'acqua è troppo profonda la storia in sicurezza ok no no noi giochiamo con un tossicodipendente quando guarda un mostro si dice oh mio dio masano è buono non c'è no ma non c'è che non c'è che c'è buon tutta fare non c'è che c'è c'è bella. Sì, oh. Andiamo a cercare di fare la mezzanita dalla cara. Ok, questo va. Ok, una cosa va. Questa è una cosa bella. Mi pare la macchina andando il ponte esterno. Sala controlli, ovvio. Appena vista lì. Ma è. Questa è una cosa. Ah, stavo giocando lì i miei occhi. Un vecchio amico in Algier mi ha dato una macchina. Perché non è qui con noi? Non voleva venire? Non voleva venire. Passo. Un, oddio. Ma... Vapua, vapua, vapua. Vapua, vapua. Vapua, vapua. Vapua. Non risolto tanti enigmi. Vapua. Vapua, vapua. Vapua. Adesso ci dovrei fare. Grazie a tutti. E' una prova. Ci va? Si? No, no. Però si va. Devo fare con una serie molto esteri di Anagios. E ci voglio passare con un cono. Anagios. 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 Porca. PORCA PUTTA! bello che esplode poi no, 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 no ahhh faccio a due e basta ok quindi andiamo a POR ah Router Pets e PORSO ok, questi sono bloccati nella loro posizione ok, ho scelto un click 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 oh ma questa è un modo di bloccaggio ok 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 genio sono un genio io ci sono bloccati però dove sappiamo stigosi non è che mi continuano a stare quindi quelle porte oh, io penso che era la sede altre porte what the fuck sono un pro ma dove sei? che così scegli e ti do crudo in faccia è la prima opera che stai rompendo semplicemente le palle da quando è iniziato questo gioco ah ok quindi destra riferimento e sinistra deve essere come destra quindi se deve essere come destra e uno va al lato così è un'altra cosa ok quindi oltre che così non può andare poi se io ci posso scattare e ci deve essere obbligatoriamente qualche altro messo spasso per la stanza quindi quindi finisci felice il bottano finisci il bottano finisci il bottano Allora vabbè l'avevo già preso l'uomo, quindi non possiamo passare di più, c'è bottanieri, gli ho fatto una battuta di n***a, non si può andare, un artello, un nana, un biechezzo, e io ho più ci sono i problemi ah sono giocati allora quindi se deve essere come sta la cosa con l'ordine quindi parli qua ok 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 bu sono un mostro hai una mostra no sedia destruggi ah 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 quindi questo adesso non è un momento perfetto ok buona cosa vorresti dire che c'è stata una spinta come lecce wow ma la camera ah ah ahia tutto guarda se io mi sto domandando se lo becca in faccia daniel che cazzo mi prenderebbe no lo proviamo no 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 non non è quella una spinta non è una spinta vabbè quindi che non è una spinta che non è una spinta adesso è da casi quello do do cazzo vabbè evidentemente non voglio andare lì che è questo può fare uh che palle vabbè ci vediamo in un passo che ci sono qui oh papà ciao vabbè non va bene vabbè non lo troviamo in piena non lo troviamo in piena adesso